portacaricatori model 58 ex dotazione British Army questi portacaricatori sono stati costruiti per l'esercito inglese in solidissimo cotone ritorto sono stati in dotazione per parecchio tempo oramai soppiantati di smessi alla più moderna cordura notate gli attacchi di apertura in metallo con fibietta a sgancio rapido questa viene tirata e immediatamente il portacaricatori si apre abbiamo il destro e il sinistro da cosa si distinguono dal fatto che sul retro hanno gli agganci per il cinturone posti in maniera obliqua per cui uno va a destra e uno va a sinistro potrete trovare le stampigliature di fabbricazione di vario genere spesso vengono stoccati immagazzinati non perfettamente omogenei per cui troverete delle riformità fra l'uno e l'altro tessuti anche diversi come potete notare qua questo canvas qui è diverso da quello addirittura del corpo nello stesso portacaricatori sul retro come abbiamo visto abbiamo degli attacchi portacaricatori da da spallaccio e quello da cinturoni lateralmente abbiamo solo solamente su uno dei due portacaricatori una taschina apribile tramite piccola ghiera girevole metallica la capienza come potrete notare al suo interno è molto ampia infatti su questo abbiamo voluto fare una prova inserendo dentro ben tre caricatori della cappa che vanno agevolmente dentro senza nessun problema e avanza addirittura nello spazio inserendo dentro